E' Ongaro, Nicolás Ongaro, immediatamente in prima posizione, l'atleta del team Creazzo e una doppietta, forse anche tripletta, del Creazzo, vediamo a vedere, perché c'è Stevan Morali, del team Verona, che cerca di infilarsi, e allora Nicolás Ongaro per il team BMX Creazzo in prima posizione, poi ancora il suo compagno di squadra, Filippo Trondon in pescantina, con Leonardo Domona e ancora il Verona con Stevan Morali. Tu sei qua in vestiti.